È una rievocazione storica dell'antica battitura del grano, perché noi qualche volta ci sentiamo un pochino, come dire, messi da parte, perché ci sono tante rievocazioni storiche di tipo, che posso dire, battaglie, carnevali, eccetera. La nostra è una rievocazione contadina, ma è quella che è, secondo me, fondamentale. Non ci sono morti, non ci sono feriti. Celebriamo il grano, quindi il pane, e il lavoro e il progresso dell'uomo. Torna la rievocazione dell'antica battitura nel comune di Castiglionfibocchi il prossimo sabato 2 luglio. Dopo lo stop, dunque, dovuto alla pandemia, questa manifestazione tornerà a raccontare la tradizione contadina. Quali macchine agricole antiche vedremo in funzione? Se non ricordo male, insomma, appunto, tra gli associati del Kamae ci sono tanti gioielli che magari per quel giorno torneranno a lavorare. Innanzitutto la macchina a vapore, che è quella da quale nasce proprio l'energia, e poi la trebbiatrice. La trebbiatrice è la prima macchina, la vera macchina che arriva nei campi, arriva nelle aie a battere il grano. La macchina a vapore, poi, che era molto ingombrante, verrà sostituita dal trattore, principalmente il trattore a testa calda. E quindi, ecco, è una grande festa, una grande festa del grano, che poi si concludeva proprio a tavola, con il desco contadino dell'epoca. I momenti fondamentali sono il 2 luglio, sabato 2 luglio. La mattina ci sarà l'apertura di un concorso di pittori, concorso di pittura con il tema, la battitura del grano. La battitura del grano, quindi un concorso di pittura aperto a tutti. La mattina ci sarà la tembratura delle tele e la sera ci sarà la premiazione, sono il primo, secondo e terzo premio. Poi c'è la piazzatura delle macchine e poi c'è proprio la dimostrazione storica della trebbiatura del grano, con sfilata dei trattori d'epoca finale. E la sera, in piazza, nel centro storico di Castiglione Fibocchi, ci sarà la scena contadina della battitura. C'è la scena contadina della battitura.